Mercoledì 20 di settembre, siamo alla vigilia dell'inizio dell'autunno, eppure ieri è arrivata la proroga alla stagione balneare da parte delle comune di Pesaro, che di fatto ha recepito una direttiva della Regione Marche per provare a distagionalizzare ulteriormente l'estate, portando ad allungare il periodo in cui si possono affittare lettini, ombrelloni e avere servizi di ristorazione balneare. Non sono tanti però a Pesaro i bagnini che rispondono a questa proroga, c'è chi aveva già smobilitato, ricordiamo che gli stagionali terminano di regola al 10 di settembre, chi viene preso un po' alla sprovvista da questa proroga dell'ultima ora e chi invece decide di proseguire e di vedere se il tempo meteo assiste anche questa permanenza di ombrelloni e lettini. Noi come spiagge le lasciamo sempre, ombrelloni e lettini, anche dopo la chiusura della stagione che di solito è intorno al 10 di settembre, per dare un servizio in più. Comunque sono persone che hanno già pagato, a livello economico non ci rientra niente, però visto che il tempo è bello noi togliamo piano piano lasciando comunque sempre un po' di attrezzatura perché ci fa piacere che i clienti comunque se il tempo è bello possano venire. Però è proprio la mentalità delle persone che dopo la fine di agosto e soprattutto dopo la fiera non hanno più l'usanza di venire al mare, magari vengono a giugno con la pioggia che è freddo, vedi quest'anno e magari settembre che è bello, settimana scorsa tempo meraviglioso, spiaggia vuota. Quindi è un po' anche la mentalità della persona, lasciando aperto secondo me la presenza nelle spiagge sarebbe comunque bassa. Siccome è un'opportunità, non è un obbligo, perché noi abbiamo l'obbligo di stare aperti dal primo di giugno al primo settembre, mi sembra, che si possa stare aperti fino al primo ottobre o fino al 30 settembre direi che non cambia molto, quindi chi voleva chiudere chiude, chi è ancora aperto come noi perché gli hotel hanno gente, rimane aperto. Ecco, magari anche in questo senso gli stabilimenti balneari possono essere un alleato del turismo, degli alberghi perché i turisti sono anche invogliati a essere qui se c'è poi un servizio balneare attivo. Sì, ma io credo che nessuno lavora contro il suo interesse, quindi probabilmente gli stabilimenti che chiudono sono stabilimenti che lavorano prevalentemente con stagionali e quindi a un certo punto della stagione chiudono perché i costi sono superiori alle entrate. Noi magari abbiamo dei contratti con gli hotel, evidentemente loro vendono un pacchetto pensione completa, ombrellone e spiaggia compreso, quindi finché è possibile noi cerchiamo di aiutarli. Grazie. Grazie. Grazie.